Salve a tutti ragazzi, salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video! Oggi siamo qui su FNAF 3! Allora... Eh? L'avete mai visto? L'avete mai visto? L'avete mai visto? L'avete mai visto? Ah! L'avete mai visto? L'avete mai visto? L'avete mai visto? Vediamo un po' di nuovo video! Ehi! Sì, vediamo un po' di nuovo video! Sì, vediamo un po' di nuovo video! Sì, vediamo un po' di nuovo video! Ehi! Allora... Beh... Eh... Ok! Io vedo un bellissimo! E' audio! come è freddo io? come è freddo io? oh ecco Il nodo ehbimo 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 La Diorima Di Dolincos ehh.. Accorder è molto facile e poi tenete un'idea allora ok allora che cosa c'è qua? è allora è è è è è è ha vinto ma dai era facile vediamo le ore ha durato 3 minuti e ha durato pochissimo andiamo andiamo e ne abbiamo vinto oh yeah exit no non puoi andare ah Pietro no 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 ok siamo andati si che si ecco ok ah abbiamo rilesso il gioco siamo al secondo livello però per oggi è tutto ragazzi e al prossimo video ciao ok ok ecco no 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 Grazie a tutti